50 milioni di euro, questa la cifra che viene suddivisa equamente tra i due bandi che si rivolgono uno agli allevatori delle aziende zootecniche siciliane che producono latte e uno agli agricoltori delle aziende agricole che pagano i contributi per l'irrigazione e i consorsi di bonifica. In entrambi i casi si tratta di aiuti temporanei e eccezionali per allevatori e agricoltori colpiti dalla crisi del conflitto russo-ucraino. Si pensa infatti all'aumento dei costi di materie prime ed energia. Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, CREA, si legge nel comunicato dell'assessorato a Ramo, nel documento Agroalimentare Guerra, gli effetti sui costi e sui risultati economici delle aziende agricole italiane, elaborato sulla base dei dati aziendali rilevati dalla rete RICA, Rete di Informazione Contabile Agricola, attesta un aumento del costo medio nazionale di oltre il 54%, con la previsione per oltre il 30% delle aziende, su base nazionale, di un probabile reddito netto negativo rispetto al 7% registrato prima dell'attuale crisi internazionale. Ci sarà tempo, sino al 30 settembre, per presentare le stanze al Dipartimento regionale dell'Agricoltura e l'aiuto sarà concesso entro e non oltre il 31 dicembre 2022.